Siamo di fronte alla base del PISCA Quirra, come potete vedere ci sono le persone che stanno iniziando ad arrivare per questa manifestazione contro le morti silenziose dei pastori, dei cittadini di Quirra. Come potete vedere c'è anche il coordinatore della Sinonucle, ci sono molte soggettività e sono sempre, come voi sapete, negli umori della Sardegna e poter contestare una base che porta soltanto morte e nient'altro. Fisaili, 13 febbraio 2011, Quirra.